Un saluto a tutti e bentornati a Missione Mondo, in questa puntata torniamo a parlare dell'operazione Mato Grosso, lo facciamo con una lunga intervista a Paolo Viacava e Eleonora Vignetta, una coppia di sposi del nostro territorio che ormai da sette anni vive ed opera a Lima, in Peru, proprio con l'operazione Mato Grosso. Ogni due o tre anni Paolo ed Eleonora tornano nel nostro territorio per raccontare la propria esperienza, per portare la loro testimonianza. Dunque quale occasione migliore anche per noi per rincontrarli, per capire insomma che punto è la loro attività e anche la loro famiglia costruita a Lima, in Peru. Oggi Paolo e Eleonora hanno quattro figli. La loro vita è fatta di servizio, di missione, soprattutto di aiuto concreto che non è solamente l'aiuto economico, l'aiuto tangibile. E' fatto anche dei rapporti che hanno saputo costruire in Peru e dei legami che hanno mantenuto con il nostro territorio. In questi giorni c'è stata una messa di saluto poco prima della loro ripartenza per Lima nella chiesetta delle suore Clarisse di Levi e quindi è stata anche l'occasione per noi per poterli intervistare. Vi lascio allora all'intervista di Giacomo Rizzi, Commissione Mondo. Ci ritroviamo mercoledì prossimo. Arrivederci. Iniziamo da te Paolo. Innanzitutto ci racconti come nasce la vostra esperienza missionaria in Peru? Siamo partiti nel 2012 perché spinti da un bisogno della missione del Peru a Lima. C'era bisogno di una famiglia che andasse a sostituire un'altra famiglia che tornava in Italia. E noi avevamo il desiderio, sposandoci, siamo sposati un anno e mezzo prima, di avere una famiglia aperta, aperta ai poveri, aperta agli amici, ai bisognosi. E così ci siamo fatti prendere dell'entusiasmo e siamo partiti per Lima dove abbiamo incontrato questo gran bisogno di qualcuno che potesse aiutare e fare come un punto di riferimento in città, appunto lì nella capitale, per le altre missioni dell'operazione Mato Grosso che abbiamo in Peru. Abbiamo più di 70 missioni quindi c'è bisogno, chi nella città compri i viveri, i materiali e tutte le cose, mandi sui soldi, tutte le cose che possono servire per portare avanti delle missioni. E su abbiamo ospedali, scuole, cooperative di lavoro, orfanotrofi, ecco, quindi ecco ci siamo trovati a far quello. Siamo partiti sicuramente non pensando di stare così tanto perché adesso è sette anni che siamo lì, però siamo contenti di esserci, felici di fare una vita così anche se non abbiamo un lavoro nostro, un futuro nostro, ma soprattutto è anche un lusso stare giù. È un lusso perché se siamo giù è per tante persone che ci aiutano e ci mandano soldi, ci mandano viveri, ci mandano vestiti, così come per i poveri li mandano anche a noi e ai nostri figli per poter andare avanti, per poter riuscire a fare questo servizio, ecco. In un certo senso voi siete giù per aiutare le persone, però vivete comunque dell'aiuto degli altri e in questo senso quanto aiuto ricevete quando diciamo venite su, venite comunque tornati in Liguria dalle comunità che ci sono qui? Ma abbiamo trovato comunità, la comunità veramente generosa, penso a Santa Margherita, penso qua a Chiavari, penso a Sori, che sono i paesi dove un po' ci siamo spostati qua, noi siamo proprio di Rivarola, quindi anche tutta la gente, è come se nella fiducia, nel conoscersi, nel far conoscere la nostra vita si aprono i cuori, e insieme ai cuori si aprono le porte, no? E quindi è stato bello vedere la generosità, noi siamo stati qua praticamente mantenuti dagli amici, ci hanno dato il lavoro, ci hanno dato i soldi per vivere, ci hanno dato una casa dove vivere, ci hanno fatto la spesa, ci hanno dato tutto quello di cui avevamo bisogno, però ci hanno dato questo perché è un sogno comune, non è una cosa solo nostra. E il nostro rientrare in Italia ogni due o tre anni, a parte per salutare i genitori, i nonni dei nostri figli, quindi tutta la parte affettiva, c'è tutta una parte di legami importantissima, perché appunto noi senza le persone qua non possiamo permetterci di fare una vita così, quindi per aiutare i poveri, i poveri soprattutto dell'America Latina, devi avere qualcuno che si commuove insieme a te e dice sì, ci credo, ci credo anch'io con te, parto anch'io con te, non posso venire lì, però vengo con te, ti do questi soldi, ti do, ti aiuto a preparare questa cosa, ti sostengo, prego per te, perché poi dopo gli aiuti sono tutti, no? E quindi ecco, in una vita così di provvidenza serve sempre qualcuno, c'è sempre qualcuno che ti copre le spalle, no? Che ti dice vai, vai, vai tranquillo, qua ci siamo noi. Eleonora, che tipo di scelta è stata quella di partire? Nel senso, è stata una di quelle scelte che comunque arriva così, arriva forte, o questa è una scelta comunque maturata nel tempo? Ricordo che mio marito era tornato da un campo di lavoro e dove era uscito questo bisogno, allora era venuto con la proposta di andare giù. Io ero incinta e avevo detto vabbè, partoriamo, poi andiamo dopo tre mesi, il bambino aveva tre mesi, siamo partiti. Sicuramente sia questa scelta sia il fatto di tornare giù è una scelta dove non metti la razionalità, è proprio un desiderio di dire, desidero vivere la vita per Dio, per regalarla agli altri e dire un sì tutti i giorni e lasciarsi guidare, no? Come se non dipende da noi, dalla società, nel senso che si inizia a pensare alla pensione, al lavoro, a quello che saranno i figli, a cosa vorranno loro, non fai. Invece se dici è arrivata questa scelta, questa proposta, dire un sì per vivere, per quello che ci viene chiesto. Quanto è contato l'essere in due in questa scelta? C'è una scelta che tu pensi avresti fatto fossi stata da sola, non con Paolo? Sicuramente da sola è più facile perché sei più libero, sei più in due. Da un lato è stata più leggera la partenza, perché quando sei in due, sei una famiglia, sei già formato, sei più forte, invece da solo è tutto nuovo, è tutto lasciare i tuoi genitori, sei ancora legato, invece è una scelta dove parti in famiglia come affrontare qualcosa di nuovo ed è bello perché quando magari fa più fatica lui, io sono più su, quindi lo tiro su, quando io sono più giù lui mi tira su, quindi è anche molto più equilibrato essere una famiglia che essere da soli. Diciamo che si ritorna al tema comunque della necessità dell'aiuto degli altri sempre. Ti sentresti di consigliare questa scelta missionaria comunque anche abbastanza radicale, abbastanza importante ad altre persone? Sicuramente sì, poi credo che ognuno è chiamato alla vita che gli tocca fare, mi sono commossa in questi mesi in Italia a vedere tante persone che fanno una vita regalata per Dio anche qua e questo mi consola e capisco che veramente ognuno è chiamato a qualcosa più grande di noi che noi non sappiamo ma se ci lasciamo guidare ci porta a vivere qualcosa di bello e di vero. Quando tornate qui qual è una delle cose che vi chiedono più spesso, in cui la gente è più cuidosa? Vabbè, tante testimonianze, sicuramente la cosa più bella per noi è girare e andare ai campi di lavoro dove ci sono tanti ragazzi, anche la cosa più bella di questo rientro è stato conoscere tanti ragazzi, vedere la luce e la brillantezza che hanno ancora i giovani, che noi diventando grandi un po' ci spegniamo, questa voglia di cambiare il mondo, questa speranza che si può vivere una vita più bella. Immagino che quando siete qua, tra le varie testimonianze, ci sarà anche chi vi dice la fatidica frase, ma chi ve l'ha fatto fare? Ecco, come rispondete a questa domanda? È una domanda, sì, hai ragione, è una domanda frequente. Io penso che la risposta più vera che posso dare è che ci siamo resi conto in questi anni che non c'è vita più bella che quella regalata, cioè non c'è cosa più bella e che ci riempie di più che mettere la nostra vita, il poco che siamo, la miseria che siamo e il bello che siamo nelle mani degli altri regalando quello che abbiamo, quindi regalando il nostro tempo, regalando le nostre forze, regalando un po' di precarietà, un po' di essenzialità, un po' di... ecco, quindi penso che quello che ci muove adesso è questa cosa che diceva Eleonora prima, conta il Signore, no? Nella vita conta il Signore. Adesso voi ve la dico così anche perché siete una trasmissione religiosa. Noi di solito siamo un po' resti a nominare il Signore perché poi più lo nomini e più dopo lo perdi a volte, no? Però è proprio per coprire che se davvero conta il Signore, se davvero conta Dio, nella tua vita, nella nostra vita, cosa c'è più bello che provare a regalare tutto di te, cosa c'è più bello di mollare d'andare, no? E seguire quello che per te ora è il Signore, no? Sicuramente questa cosa di partire è una chiamata, una chiamata se vuoi religiosa, se vuoi... però è una chiamata, no? E quindi questa chiamata è proprio dire ecco, conta il Signore nella nostra vita, no? Ed è una chiamata controcorrente perché nel 2020 il Signore non c'è più, non c'è più in questo mondo. Tu lo vedi in giro per la strada, non c'è più. Lo stiamo cancellando, lo stiamo annullando, le chiese tante volte sono vuote, i ragazzi ce n'è sempre meno e sono sempre più alle sbandole, le famiglie sono distrutte. Quindi ecco, come ritrovare questo Dio, no? È proprio dire lo voglio cercare, lo voglio... Quindi la nostra vita è in missione, ma anche se fosse in Italia, non è perché siamo in missione, non siamo più bravi, assolutamente. Però la nostra vita vuole essere per cercare questo Dio, no? Che il mondo sta eliminando con le sue invenzioni, con la sua testa, con la sua comodità, con la sua virtualità, con... ecco. Quindi per noi è questo, soprattutto, se devo dirti sinceramente cosa ti spinge al di là delle battute, è proprio questa roba qua, che più ho nel cuore e che voglio trasmetterla e in questi mesi ho cercato di trasmetterla a tanti ragazzi che anche si sono avvicinati noi, a tante persone che ci hanno conosciuto o abbiamo rincontrato dopo anni. Ecco, questa fiamma, no? Questa cosa che ti brucia dentro e dici no, è per questo, è lì che deve andare la vita, ecco. Per te vale lo stesso? Vi aggiungete qualcosa? No, no, condivido. Abbiamo parlato un po' di quello che è la missione per voi, dentro di voi, ma diciamo proprio, infatto, in Perù, non solo com'è la situazione, comunque voi avete anche un compito un po' di coordinamento, quindi avrete immagino sotto controllo magari maggiormente di altri operatori del Mato Grosso, la situazione in Perù, com'è? Ma tu dici com'è stato? Diciamo sì, in generale comunque le persone, poi immagino che, presumo che in paesi del Sud America ci sono, immagino, molte differenze tra persone comunque benestanti, persone molto povere, comunque in generale la realtà con cui entrate in contatto qual è? Ok, allora, Perugis è un paese di tantissime contraddizioni, quindi c'ha i ricchissimi e hai i poverissimi. La cosa che maggiormente mi colpisce in questo momento è che nella capitale sta scendendo sempre più gente in cerca di studio, università, lavoro, ma anche cose false, università che poi a un certo punto ti piantano per strada e chiudono e tu devi iniziare da zero, lavoro che cerchi ma non c'è sempre, però la gente è attirata da questo miraggio, da questo sogno, no? Da la terra promessa, vado a Lima e cerco una vita più bella e lasciano le terre più povere apparentemente, però anche le più dignitose, no? Quindi dove ognuno comunque a casa sua, ha il suo campo, la sua terra, può coltivare, può vivere semplicemente, ma non gli manca niente, anzi, sono più felici che noi qua in Italia quando abbiamo tutto. Però c'è questo mito, cioè tu conta che su 20 milioni, 25 milioni che è il Perù, più della metà, 15 milioni, sono a Lima. Quindi questa migrazione, no? E quindi ecco, vengono a Lima e a volte vivono sotto un telo di plastica, sotto, cioè proprio in modo ancora più precario, però per tentare questa fortuna. Quindi il Perù la situazione è questa, si sta svuotando tutte le montagne, la Sierra, Sierra si chiama, posti più, diciamo, rurali, zone più semplici, e si sta riempendo le città, Lima soprattutto, per sperare in un futuro, ma che è un futuro che spesso non si trova, spesso è tutto, è in più i danni che fa, perché c'è tutta una parte di famiglie distrutte, perché le madri rimangono sulla Sierra, rimangono in zone povere, vengono giù i padri, o se vengono giù devono lavorare tutte e due, lasciano i bambini a casa da soli, un sacco di bambini per la strada, ecco, questa qui è un po' la situazione attuale, mi viene da dire. Qual è la differenza maggiore che vedete tra le persone in Perù e le persone in Italia? E magari anche quali le analogie? Vabbè, sicuramente ho sempre pensato che il Perù è come la nostra Italia, metti 80 anni fa, anche se la tecnologia c'è, quindi arriva al mondo velocissimamente, è il progresso con lui, e la gente non è preparata, e quindi c'è più ignoranza detta male, magari vai sulle montagne, sulla Sierra trovi queste case fatte di fango e di paglia, il tetto in paglia, però hanno il cellulare, hanno la televisione, e sono tutte contraddizioni fatte anche per ignoranza, perché non hanno il risparmio, non sanno che cos'è, e quindi è proprio una diversità. Però la cosa bella che hanno, hanno ancora tanta fede, cosa che qua non trovi più, cioè si affidano molto di più. Qua in Italia tu sai già il tempo che fai, i tuoi programmi te li fai in base al tempo che ti dice il meteorologo, oppure decidi tu già cosa fare, ma tutto combinato, invece sulle montagne del Perù si affidano, tu pianti le patate nella speranza di poter avere un raccolto e preghi, chiami la pioggia, però è più un affidarsi, cosa che qua non vedo più. Voi diciamo che siete lì comunque per aiutare le persone in Perù, c'è una cosa, immagino anche più di una, però comunque una cosa che voi condividete, che è proprio imparato e di cui sentite arricchita delle persone in Perù? Sì, sì, di questa semplicità qua, di questa fede fatta di piccoli gesti, dell'andare in chiesa, accendere una candela, di mettersi in ginocchio, di pregare a occhi chiusi senza vedere questo Dio, senza avere la certezza che c'è, ma quel mettersi in ginocchio lì, sicuramente quello ce l'hanno insegnato i poveri, ce l'ha insegnato il Perù. Rivolgo la stessa domanda anche a te, se c'è una cosa comunque che ti hanno insegnato, che ti è adicchito dell'esperienza delle persone in Perù? Sì, sicuramente simile a quello che ha detto lei, però ecco, il vivere accettando quello che ti dà, quello che ti dà la provvidenza, quello che ti dà Dio, possiamo dire, anche nelle cose più brutte, quando tante persone muore un figlio, non si disperano come ci disperiamo noi, pur che è un fatto gravissimo, un dramma sicuramente familiare, però è quello che ha voluto Dio, ci sono delle cose molto più legate al cielo, qui siamo molto con i piedi per terra, molto legati alla terra, quello che fa l'uomo, all'insuccesso dell'uomo o al successo dell'uomo, giù la gente semplice, molto più semplice, si affida totalmente a quello invece che gli dà il cielo, e quindi hanno il coraggio di alzare questo sguardo verso il cielo, qui più che abbassarlo al cellulare non si fa in generale, poi c'è sicuramente chi lo fa, però ecco, questo modo, questa fede qua tuve di vecchietti che non sanno pregare, ma entrano in chiesa, alzano le braccia, gridano qualcosa e escano, ecco, questa qui è la preghiera più bella che io ho visto e forse la più vera che c'è, c'è molta più preghiera lì che in tante parole che sentiamo a volte, no? E quindi ecco, se devo dire, l'insegnamento più grande è questa preghiera che è la vita, che è la vita, quindi affidarsi alla provvidenza e avere il pensiero continuamente al Signore, no? Adesso quando tornerete in Peru? Giovedì. E sapete già quando tornerete poi di nuovo in Italia? Noi torniamo più o meno ogni due o tre anni, dipende, un po' per tenere legami, un po' perché vabbè, ormai siamo in sei, i biglietti costano tanto e poi perché comunque siamo una famiglia e c'è la scuola, ci sono varie cose, poi il tempo che ti metti in una cosa devi già tornare a casa e quindi tra tre anni penso che torneremo. È complicato, vabbè, è complicato, immagino sempre, comunque crescere dei figli, però ci sono delle complicazioni in più del fatto di comunque avere una famiglia anche numerosa in missione? Ma credo, il difficile è stato dall'uno al due, il figlio è stato più difficile, dopo ci vai dietro nel senso che lo fai. Sicuramente la nostalgia dei nonni o la presenza degli amici o vedo adesso che sono diventati molto amici con i cuginetti, è diverso, giù è tutto da costruire, adesso che stanno iniziando ad andare a scuola iniziano ad avere i loro amici, prima comunque eravamo molto tra di noi, detta male, comunque vivendo in città non è che riesci a fare un lavoro anche nella società lì, e però no, poco a poco. Ci sono delle persone che magari incontrate durante le vostre testimonianze che comunque apprezzano, ammirano ciò che fate, però magari non hanno il coraggio di partire, ecco, cosa dita queste persone? No, come ha detto lui all'inizio, non è che dobbiamo andare tutti giù, ci aiutano magari in un altro modo, cioè io penso ai nostri amici che magari non hanno voglia o coraggio di partire, però ci danno tutto, dalla macchina, i vestiti alla casa, cioè ognuno riesce a dare a sua misura. Un'ultima domanda, quando andate a raccontare le vostre testimonianze, qual è una delle cose che alle persone rimane di più, che comunque le persone divangono più contenti, più incuriosite? Ma io penso, non so se è così, ma perché io non la vivo, me lo dicono, no? Però quello che piace tanto è vedere la sincerità e il parlare col cuore, quindi non dire bugie, dire quello che viviamo, dire anche i problemi, perché ci sono anche tanti problemi nel vivere in missione, e quindi le problematiche, la famiglia, la lontananza, mancano i soldi, mancano, ecco, dire, ma soprattutto, ecco, questa fiducia, no? Quando tu riesci, riescono a fidarti di te se sei vero, ecco, se sei vero, se dici la tua vita senza tante, senza tante, questo è quello che più mi hanno detto, a volte ti dicono grazie perché parli col cuore, per noi è una cosa semplice, nel senso che ci viene naturale così, però non siamo molto colti, molto saggi, molto quello che viviamo, cerchiamo di raccontare alla persona, poi è chiaro la difficoltà che a volte parli con gente, anche qua in televisione, non è facile perché tu non vedi chi ti ascolta, non vedi la faccia, non vedi la lacrima, non vedi il sorriso, non vedi, e quindi quando invece sono amici o persone che hai davanti, è tutta un'altra cosa, no? Quello è anche uno dei problemi, però ecco, la cosa più bella è riuscire a far passare il nostro sogno, quello che abbiamo dentro, quello che desideriamo per la nostra vita, ecco. Ecco, mi scuso, faccio ancora una domanda, ma quando siete in Peru, con persone che sono anche molto povere, così, vi capita che vi dicano, ma perché fate questo? Magari voi in Italia sareste molto meglio, potreste comunque vivere bene, perché venite qui da noi a aiutarci? Ve lo hanno mai chiesto? Sì, poi secondo me magari se lo chiedono, però non è solo l'aiutarli, cioè tu non è che gli dai un chilo di pasta, è come se io penso, le persone che sono lì diventano tue amiche, sono persone che vedono il desiderio che tu hai per la tua vita, quindi va oltre l'aiutare, capito, va oltre la carità, sì, c'è anche quello però, è come un costruire un legame e anche loro innamorarsi della vita che tu fai e seguirti nelle loro possibilità, cioè nel senso che il sogno è anche che anche loro si appassionano e non possano fare qualcosa anche per chi ha più bisogno, anche se loro sono sfortunati, ma guardarsi ancora indietro per chi è più sfortunato di loro e questa è una cosa che gliela passi tu magari proprio con la tua vita. Grazie a tutti! Grazie a tutti!